Io cerco di scrivere, anche le mie storie fantastiche, io le cerco di scrivere come si fossero dei fatti per i propri di cronaca, perché se io le scrivo, quanto più l'argomento è fantastico, o addirittura inverosimile, tanto più c'è bisogno di un linguaggio semplice, quasi burocratico, quasi da rapporto di questura, perché è solo questa concretezza del linguaggio che può rendere plausibili queste storie che in sé per sé possono sembrare assurde.